Ciao, sono Silvia di Parla Sostenibile e oggi a Festi Valori abbiamo parlato di pesca insostenibile e pesca sostenibile perché la pesca ha diverse problematiche tra cui l'overconsumo ma anche lo sfruttamento degli stock marini, l'inquinamento delle reti da pesca, quindi impatta tantissimo sia sull'ambiente che sulle persone. Si può trovare qualche spiraglio di positività magari nella piccola pesca artigianale o nella pesca di quelle specie che sono neglette, poco comuni o anche di stagione perché c'è differenza tra pescare un pesce che si sta riproducendo e invece pescare un pesce che è al suo stato adulto. Quindi più consapevolezza, attenzione a non mangiare sempre solo il salmone e ridurre comunque tanto il nostro consumo di pesce.